... Attaccano, da ogni parte la bestia, siamo noi la bestia, ci sparano, nella schiena, ci sparano addosso, da tutte le parti, la bestia è cerchiata. Alle 23.15... La polizia sfonda la porta ai radio Alice. La squadra politica di leva al mattino, state attenti, hanno ordine di sparare i carabinieri. Le autoambulanze vengono chiamate prima degli spari. Alle ore 23.15... La polizia sfonda la porta ai radio Alice. Cinque compagni arrestati, ma gli altri dodici fugono via Etere. Queste sono le ultime voci che Radio Alice ha diffuso. Andiamo a andare, non andiamo. E, portatevi a questo. Avete portato? Alice? Vai a vedere? Sì, lo vedo. E, metti giù, c'è la polizia qui, sopra noi. Scappiamo di sopra? Scappiamo lì? Andiamo ragazzi, giù Alice. Non aprite, non aprite, ti prendono la riva. Pronto Alice? Un appello da Radio Alice, Radio Alice alla polizia alla porta. Tutti i compagni del colettivo giuridico di difesa, per favore, si precipitino qui in via e il fratello. Non so se sentite i colpi per radio. Amassare i colpi. Sì, c'è la polizia qui fuori, potete rispondare. Ci hanno le pistole puntate e io mi rifiuto di aprire. Gli ho detto fino a che non cavano le pistole e non mi fanno vedere il mandato. E poi, siccome che non cavano le pistole, gli ho detto che non apriamo fino a che non arriva il nostro avvocato. Puoi venire per favore, d'urgenza, ti prego, d'urgenza. Ci hanno le pistole, i colpetti antiproiettili e tutte ste palle qua. Dilli, Mauro, stai basso. Sono gli avvocati, in momento che stanno levando gli avvocati. Sì, ascoltate, c'è una polizia che la porta. Lascia giù, per favore, il telefono. Prego, i compagni di Radio Città, se stanno ritrasmettendo, come mi pare, il nostro programma. Se per favore ci danno un avviso, via radio, li sto ascoltando. Pronto? Comunque, compagni, la situazione è stabile. Signora, stiamo solo aspettando gli avvocati. La polizia, chi aspetta di entrare, sempre con i colpetti antiproiettili, sempre con le pistole puntate, hanno detto che sfonderanno la porta e cose di questo genere. Preghiamo a tutti i compagni, comunque che conoscono gli avvocati, di telefonarli e di dirgli che noi siamo appunto sediati qui dalla polizia in questa maniera, non so se avete visto il film che si chiamava, caso Caterina Bloom, stessi dentici, elmetti, gli stessi denti che i giubbotti antiproiettili, le berette puntate e cose di questo genere. veramente assurdo, veramente incredibile, veramente da film. Giuro che se non battessero sulla porta qui di fuori, penserei di essere al cinema.